No, non so se essere ottimista o meno. Io sono amico di Daniel e sono ottimista quando so che lui è felice. Se lui è felice a Roma sono contento per lui. Se lui è felice da un'altra parte, anche se la Roma indubbiamente perderebbe un giocatore, molto forte. Noi perderemmo un ragazzo, perché se ne dica, molto bravo anche nello spogliatoio, un amico io perderei, un inquilino di casa diligente e comunque sia non sono cose nostre, sono decisioni loro. Non vorrei che si mettesse bocca mai nelle mie scelte del mio futuro, quindi non lo faccio neanche nelle loro. Io non so veramente cosa succederà.